Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone ci sono due chilometri di coda tra Empoli-Est e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze e rallentamenti tra Ginestra e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno. In direzione Firenze rallentamenti tra Lavoria e Montopoli-Valdarno e code sul raccordo tra il troncone di Pisa e quello di Firenze provenendo da Pisa. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per le autostrade in A11 rallentamenti per traffico intenso tra Monte Catini e Prato Ovest in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!